Tireteam e Saol, servizi auto online, da oltre 20 anni a servizio delle flotte di auto aziendali e delle compagnie di noleggio a lungo e breve termine, rappresentano nel quadro delle attività di servizi per le aziende la più avanzata forma di network nazionale, in grado di fornire assistenza a 360 gradi nel settore della manutenzione delle auto di servizio. Attraverso una rete con più di 5.000 officine selezionate, una centrale operativa con personale altamente qualificato e sistemi informativi avanzati, garantiscono interventi veloci nel pieno rispetto degli specifici accordi con il cliente, offrendo così un servizio centralizzato che utilizza tecnologie multipiattaforma, web e mobile. Il network fa riferimento alle migliori officine in grado di garantire un adeguato servizio di manutenzione meccanica e di carrozzeria. L'assistenza e la vendita di ricambi e pneumatici delle migliori marche è un efficiente servizio di noleggio di auto sostitutive. Più recentemente, Tire Team e Saol si sono attivate per definire accordi di collaborazione con il mondo delle compagnie assicurative, costituendo così la Cori It by Saol, una rete in grado di fornire ai clienti assistenza accurata, servizi riservati agli assicurati, certificazione dei preventivi e soprattutto tariffe vantaggiose. Saol Servizi Auto Online, Tire Team e Cori It by Saol, partners al servizio del futuro.